Allora, è abbastanza difficile il Tabayapa al Furlan in questa situazione perché è una situazione particolare. Siccome ho iniziato in Francia, in una regione vicina alla Spagna, e pensi di un mio amico, mi ha domandato se sarebbe il Tabayapa al Furlan. Allora, noi il Furlan è una lingua tabayada principalmente in Friul da circa 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 100.000 persone. Principalmente è una lingua di origine latina con alcuni mescolanzi celtici. Ci sono differenti varianti di Furlan perché non è tabayata la stessa moda in buona parte del Friul di Venezia Giulia. Ma principalmente è una lingua tabayata tra il Porto di Nones e l'Udinese, quasi fino a Trieste. Il Furlan è una lingua che ti insegni fino a bambini, infatti fino a Canai, da Canaiut, perché magari con il team ti pierdi senza la facoltà di sapere tabayare, di sapere quello che ha per Furlan, però i nostri genitori, i nostri non, i nostri genitori sono sempre stessi bravi a tabayarsi, a tabayani e non finché in Canais per avere un ricordo, o comunque per poter tramandare questa lingua tra le generazioni passate. e dopo questo ti direi che il mio Furlan è un Furlan un po' abbastardito perché io adesso vivo a Milano, però io sono nato dal profondo Friul, e vedo sempre che c'è un flume che ha diventato la zona più Veneta dalla zona più Furlana. e poi ti passi in su, ti rivisti in Cerni e poi ti assi un Furlan un po' più sierato. Questo è una lingua bellissima, però in questo momento è un po' penalizzata perché hanno venuto insegnare tali scuole, hanno venuto più tramandata dai genitori che hanno fatto tabayani per Furlan. e io ho un peccato perché hanno una buona lingua, è un po' difficile perché sono venuto in Parisi così dalla tradizione. Ho i genitori, ho i nonni, ho i Parisi, e io è difficile arrivare a tramandare. e io penso che sia così. Grazie. Grazie. Grazie.